Ciao, io sono Soledad, ma potete chiamarmi Sole, e da dieci anni ho aperto questa libreria, la Seggiorina Blu. La Seggiorina Blu è più di una libreria, è una palestra per la fantasia, è un luogo di incontro e confronto. È una fucina dove nascono laboratori e iniziative per tutta la città. Un'officina aperta, dove imparare e crescere insieme. O aggiustare giornate storte anche solo entrando e immergendosi tra gli scaffali. La Seggiorina Blu è tante cose, ma le sue radici sono tutte qui. Quindi, senza queste mura, tutto il nostro mondo potrebbe sparire. Vi ricordate i mesi della pandemia? Con la lettura in quarantena ci siamo fatti compagnia e siamo riusciti a sentirci più vicini. Voi mi avete ringraziato e io ho ringraziato voi. Oggi sta andando in scena un momento molto difficile e sulla Seggiorina potrebbe calare il sipario. Per questo adesso abbiamo bisogno che siate voi a farci compagnia. Abbiamo lanciato una raccolta fondi per dare un futuro alla Seggiorina Blu, che non è solo la libreria di sole, ma è un luogo di crescita per grandi e piccoli. Un luogo di cui, come comunità, non vogliamo fare a meno. Noi siamo pronti e pronte a fare la nostra parte. Aspettiamo anche te. In fondo basta poco per non toccare il fondo. Più siamo, meglio stiamo. E meglio staremo con la Seggiorina Blu ancora con noi. Torniamo a volare insieme leggere. Grazie a tutti.